Buongiorno e bentornati a Bookstore, gli ospiti di questa nuova puntata. Filippo Focardi, il cattivo tedesco ed il bravo italiano, la rimozione delle colpe nella seconda guerra mondiale per la terza. Angela Camuso, la preda, le confessioni di una vittima, storia vera del più grande scandalo della chiesa tra fede e omertà per Rx di Castelvecchi. E poi Nicola Lecca con la piramide del caffè, un romanzo per Mondadori. Buongiorno e benvenuti. Andiamo invece a conoscere la piramide del caffè di Nicola Lecca. Nicola Lecca, anche se è un giovane scrittore già piuttosto affermato, vende anche in giro per il mondo e in giro per il mondo lui ama collocarsi. Lui si considera un nomade perché comunque negli ultimi anni ha cambiato svariate nazioni. E un po' questo è contenuto in questa storia che è raccontata in questo romanzo. Parliamo di un orfano ungherese che è vissuto appunto in un orfanotrofio, va a Londra che è il suo grande sogno e comincia a lavorare per una multinazionale, diciamo una catena di caffè, si aprò per coffee e apparentemente realizza il sogno della sua vita. Ma l'apparenza in questo caso è molto ingannevole. Beh, l'apparenza è ingannevole perché in questo nuovo mondo della standardizzazione il manuale del caffè che spiega come ci si deve comportare all'interno del caffè, come si deve fare il cappuccino, come bisogna comportarsi con i clienti spiega tutto molto per bene e tutto procede alla meglio fino a che questo ragazzino che si chiama Imi inizia a fare il cappuccino un po' più buono degli altri, diventa un cappuccino veramente buonissimo e questo va contro i dettami del manuale perché il manuale dice che il caffè in tutte le caffetterie della Proper Coffee deve essere uguale allora lui viene chiamato dai suoi dirigenti e viene sgridato perché fare il cappuccino è troppo buono tu devi riprendere a farlo come scritto nel manuale. Allora, questo io sono sicuro che accade anche a molti di noi perché oggi essere più bravi in fabbrica, al lavoro, nella vita è un problema qualche volta, è più comodo essere completamente uguali agli altri. Chiaramente lo sguardo dell'orfano che arriva dal piccolo paese ungherese e che si trova catapultato nella metropoli e che si incanta per questa nuova vita è di grande ammirazione per tutte queste regole, per questo ordine che sotto certi punti di vista affascina. Certo però che poi ci si dovrà scontrare perché questo manuale non spiega solo come fare il cappuccino ma mette anche enormi limitazioni alla libertà personale. Quindi una standardizzazione che viene teorizzata in questo manuale e poi che però lascia dei buchi scoperti in cui poi l'inventiva di questo ragazzino si infilerà perché poi magari faranno, a un certo punto succedono delle cose che però non sono previste dal manuale, comporteranno un atteggiamento diverso perché poi quando tutto è previsto appunto l'eccezione diventa spaventa. A Napoli l'eccezione è la regola, agli inglesi invece ne sono terrorizzati perché gli inglesi appunto fanno tutti i manuali dove scrivono se succede questo si fa questo, se succede questo si fa questo e però la D non c'è e allora bisogna improvvisare e questa è l'arte del napoletano, dell'italiano e noi improvvisiamo benissimo. Quindi questo è un ungherese un po' napoletano questo ragazzino. Con tutto il bene che l'aggettivo comporta, viva Dio insomma, è una persona che sa improvvisare, è una persona capace di relazionarsi al problema quando accade in maniera creativa, in maniera brillante e di essere un essere umano, di essere una persona completa che si sa rapportare al destino, che si sa rapportare agli altri in maniera originale, unica perché noi siamo tutti unici. E' terribile questa idea di volerci rendere tutti uguali, io la trovo imbarazzante. Vorrei dire che sono molto onorato di essere qui oggi con questi ospiti perché mi interessa sempre approfondire la storia, la cronaca, la verità. Secondo Madonna Wallis Simpson è una vittima, quindi a sentire lei, a sentire qualcun altro è una nazista. Allora, è bellissimo che io che ho fatto un libro di fantasia che serve per divagare, per svagare, per entrare in un mondo dove si dimentica l'ultimo TG insomma, sia oggi ospite con delle personalità... E' o no il nostro, non quello della Senti, se no è... No, dopo che si è visto. Ah, dopo che si è visto. Essere qui ad approfondire argomenti molto seri, anzi mi complimento con la redazione che ha permesso questo connubio un po' insolito di questi tre titoli. Grazie per i complimenti, raccolgo a noi di tutta la redazione, ovviamente la piramide perché anche qui nel manuale c'è una settura piramidale per cui ci sono gli assistenti generali di cui appunto, come il protagonista del romanzo, alla base poi via via se uno fa carriera attenendosi alle regole del manuale rigorosamente poi potrebbe anche arrivare ai vertici della piramide. E lui in maniera infantile dice mi ricorda un po' il comunismo perché secondo il manuale siamo tutti uguali, però è anche un po' come nell'antico Egitto che c'è la piramide, il faraone in cima eccetera. Però siccome si passa di livello, nell'Egitto non si poteva scalare la piramide, no? Era molto difficile. Dice mi sembra un po' come i giochi per computer. Allora lui si appunta nel manuale a quello della proper coffee e un comunismo computerizzato di stampo faraonico. Non so se lo storico su Wallis Simpson ha qualcosa da dire. Bentornati a Bookstore. Di Nicola Lecca abbiamo detto all'inizio che è un po' un girovago, che in questi ultimi anni è stato un po' in giro per il mondo e ha condensato in questo libro. Ci sono molti personaggi, alla fine quelli più positivi sono proprio gli stranieri. Si crea questa Londra molto formale, molto legata alle apparenze e poi questi stranieri che si trovano lì a lavorare, a fare varie mansioni, sono quelli che un po' più rappresentano un'umanità vera. Quella ha l'esperienza proprio personale dello scrittore? Londra, a differenza di Parigi, che non ha mai integrato le colonie, che ha sempre tenuto gli algerini in disparte, facendo un distacco veramente spiacevole per cui non vedrai mai un angelino direttore di banca a Parigi, no? È difficile. Credo che Londra sia riuscita in questa scommessa, ha integrato tutti molto molto bene e poi loro sono molto civili, molto cordiali, la regina Elisabetta ha firmato da poco questa nuova legge antidiscriminazione e poi insomma è un popolo che quando ti urtano loro in metropolitana ti chiedono scusa pure dopo che ti hanno urtato, se li urti tu ti chiedono scusa lo stesso, cioè è un popolo meraviglioso da quel punto di vista e quindi funziona, a Londra il miracolo funziona. Per quanto riguarda il fatto di essere cosmopolita a Londra, conta forse addirittura il doppio perché tu viaggi per tutto il mondo, vivi in 7, 8, 10 città e poi arrivi a Londra e ti accorgi che è una non città perché è una città di tutti, è una città dove vivono mille persone. Oggi essere qui a Roma per me è un'esperienza iper romana, cioè romana è perché Roma è dei romani sono qui per essere nella vostra trasmissione, lo ricordo anche ai telespettatori che questa sera alle 19 al Parco della Musica da Ciamaraini presenterà il libro quindi siete tutti invitati, ma questa è la vita dello scrittore e viaggiatore. Il festival della letteratura, non è una cosa solo per Nicola Lecche. No, no, ci mancherebbe, però il mio evento è quello là, le 19, quindi lo segnalo per chi volesse partecipare. Ma si sta meglio fuori o si sta meglio in Italia? Beh, quando a gennaio io posso andare a Cagliari con 24 gradi a vedere il mare, sulle terrazze di Calamosca, cavolo, a Reykjavik è bellissimo, però a gennaio c'è meno 18, devo mettere la calzamaglia come in Nura, è una cosa che non si può guardare. Allora, devo dire che ogni città ha il suo fascino, credo che sia bello nella vita vivere molte vite e fare l'esperimento, insomma capire tutto ciò che ogni città può offrire, arricchirsene e quindi poi a un certo punto uno si fermerà, non si può vivere come una trottola, però essere completo e pieno del mondo, sentirti cittadino del mondo, credo ti renda capace di scrivere un libro che possa emozionare tante persone. Forse per questo il mio libro è tradotto in 15 paesi europei, forse perché il mio parlare non è da scrittore, non è un modo di parlare a un italiano da un italiano, ma è un modo di un europeo di parlare a un altro europeo. Abbiamo detto che questo protagonista è cresciuto in un orfanotrofio ungherese, è un'esperienza che lei ha fatto proprio per capire, lei ha trovato che un orfanotrofio che sembra un luogo triste proprio per definizione, invece c'è molta felicità, è andato lì per cercare di capire anche il segreto di questa felicità. Io sono capitato per caso, perché scrivevo un reportage dall'Ungheria, anzi diversi reportage, e ho visitato questo orfanotrofio, quindi uno si aspetta, bambini tristi che piangono, malnutrizione, e invece in questo orfanotrofio c'era una grande felicità. La sera sono rientrato nel mio albergo e ho detto io rimango qui sinché non scopro il segreto di questa felicità, perché la felicità serve a tutti noi, no? Allora, sono rimasto 500 giorni nell'arco di 7 anni, finché questo segreto della felicità l'ho capito, e nel libro è raccontato. Non a caso, sul Sole 24 Ore, hanno scritto questo è un libro adatto alla crisi, perché in un momento nero dove tutti si lamentano che tutto va male, questo libro ti insegna a gioire e a essere felice, perché se possono essere felici questi, che non hanno la madre, non hanno il padre, o sono figli di assassini, o sono stati violentati dai genitori, eccetera, eccetera, allora si può veramente essere felici noi tutti. Si può essere ottimisti, se non altro. Direi proprio di sì. Però qui io torno a invogardi, ricordiamo, il cattivo tedesco, il bravo italiano, la rimozione delle colpe nella Seconda Guerra Mondiale, grazie e saluto Angela Camuso, la preda, le confessioni di una vittima, storia vera del più grande scandalo della Chiesa, tra fede e omertà, grazie ancora a Nicola Lecca con la piramide del caffè, e vi ricordiamo che in questo fine settimana potete acquistare le uova di Pasqua dell'Ai, l'associazione italiana contro le leucemie, quindi fare quest'opera per la ricerca. Noi ci vediamo sabato prossimo, naturalmente vi lasciamo i consigli per la lettura. Buona giornata e buon fine settimana.